come posso allentare la presa sui beni materiali questo quesito è suggerito dal 4 di denari che metto in relazione al 5 di denari della scorsa settimana se dovessimo fare un ragionamento quasi conseguenziale tra questi due arcani nel 5 dovevamo necessariamente vedere valutare studiare il rapporto che avevamo con l'abbondanza e con la povertà quindi generalizzando con la materia il 4 di denari arriva e sembra dire attenzione ma come è c'è lavorato su questa cosa qua come hai studiato questo aspetto questo rapporto che hai con la materia e allora vedo il 4 di denari per la settimana a venire come un invito a ridefinire il nostro rapporto con ciò che abbiamo a tenere traccia dei soldi uscenti e a studiare come stiamo investendo le nostre risorse questa settimana ovviamente il tema principale il tema preponderante rimane quello della materia e soprattutto se provieni da qualche giorno in cui spinto troppo su un discorso materiale oppure se hai fatto confusione tra ricchezza interiore ricchezza esteriore allora fermati un attimo allenta la tua voglia di circondarti di cose materiali di cose concrete e lavora per un nuovo senso di amore un nuovo senso di relazione appagante un nuovo senso di felicità nella tua vita e nella tua esistenza e da questo spaccato le tre carte che ho tirato fuori ho utilizzato esclusivamente gli arcani maggiori acquistano un senso perché i beni materiali vengono visti senza ombra di dubbio dal bagatto ovvero da colui che interagisce con una strumentazione da colui che interagisce con degli averi il bagatto è in diretta contemplazione dell'arcano 15 cioè sta guardando il diavoletto da un certo punto di vista potremmo pensare che è intento ad usare i suoi beni materiali per creare qualcosa perché il diavolo è questa esplosione creativa e l'innamorato in terza può rappresentare sia quindi creare qualcosa che ti piace ma visto che abbiamo parlato anche di ridefinire un concetto di rapporto con gli altri nell'innamorato ci sono gli altri quindi ecco che dobbiamo usare i nostri strumenti per creare qualcosa da mettere al servizio degli altri della comunità è anche interessante un aspetto un po più tecnico ovvero il bagatto che entra in non entra in crisi perdonami in realtà il bagatto ha un profondo dubbio rispetto a ciò che guarda quindi ecco che lui ha un dubbio su questo diavoletto e il diavoletto nella materia molti vedono il diavolo come i soldi io non ho mai fatto questa associazione e nemmeno mi piace però vedo il diavoletto come un discorso molto interessante che riguarda la materia e si avvicina molto all'avidità al volere troppo al possedere a tenersi stretto qualcosa e il bagatto allora è dubbioso indeciso se tenersi stretto qualcosa e nel pensare in modo ossessivo e compulsivo a questa possibilità volta le spalle all'innamorato quindi diventa lui stesso egoico non vede gli altri non vede la disponibilità il mettersi al servizio ancora una volta ritorna questo concetto puoi allentare la presa sui beni materiali diavolo bagatto e guardando gli altri cercando di capire ciò di cui hanno bisogno mettendoti al servizio simbolicamente puoi pensare che il bagatto ha necessità di girare la sua testa non guardare più il diavolo ma guardare l'innamorato questo è un tiraggio un po' particolare perché in relazione al quesito fatto come posso allentare la presa sui beni materiali questo tiraggio specifico apre degli spaccati vertiginosi su tantissimi piani interpretativi come sempre ti consiglio di provare a fare da te questo tiraggio in base al metodo di lettura che preferisci non devi tirare fuori tre carte se hai un tuo metodo di lettura puoi utilizzare i significati che vuoi e puoi impiegare il mazzo di carte che vuoi comunque nell'info box ti lascio tre link che potrai utilizzare il primo se vuoi tirare fuori dal tuo mazzo delle carte ma non conosci significati dei tarocchi allora se stai utilizzando il trocco di marsiglia puoi cliccare il primo link oppure dal mio blog puoi utilizzare il tiraggio studio automatizzato a sei carte quindi scegli le sei carte le estraggo te le interpreto ricordati che è un tiraggio studio quindi potrai sempre approfondire ogni singolo arcano uscito oppure puoi postare questa domanda direttamente sulla nostra community fare un tiraggio lì questo è il link e confrontarti con qualche eterologo che verrà in tuo aiuto il primo link è un'altra domanda direttamente